Gerard, Basuras, ci stai ascoltando, vero? Spazzaturas, Masuritinos, secondo te si arrabbierà, Gerard? Pronto, Gerard? Che grappezza di merda. Gerard? Gerard? Oscar, volevo presentarti Santi Palacios, è un fotografo. Matrimonio e comunione? No, no, devi vedere le sue foto. Non ho tempo. Non hai tempo di vedere delle foto, fagliele vedere. Molto belle, presentati a un concorso. Ce le lascia usare? Usarle per? Per raccontare quello che facciamo. Facciamo? Se le usiamo adesso, in quattro giorni, mezzo mondo vedrà quello che sta succedendo. Sto facendo solo il mio lavoro, non sono importante, mi importa di loro. Fa le foto soltanto ai rifugiati. Sì, ma pensaci un paio di giorni. Sì, un po' più furbo, no?